I surrogati umani robotici uniscono la durabilità di una macchina, la grazia e la bellezza del corpo umano. Da quando la maggior parte della gente vide attraverso il suo surrogato, il nostro mondo è diventato un posto più sicuro. Dalla vostra poltrona stimolante, con il solo potere della mente, potete controllare il vostro surrogato e farla andare nel mondo reale. Potete vivere la vostra vita senza più limiti, senza esporvi a rischio pericoli di alcun tipo. Siamo di fronte a una situazione senza precedenti. Due persone sono morte mentre erano connesse al loro surrogato. Potrebbe trattarsi di omicidio, il primo da 15 anni. Il pubblico non deve pensare alla possibilità che usare un surrogato sia fatale. Soprattutto se è vero. Voglio solo capire come un operatore può essere ucciso da segnali del suo surrogato. Se fosse possibile, cadrebbero gli stessi presupposti della surrogazione. Oh mio Dio, Tom! Sei fortunato a essere vivo, ma solo perché eri scollegato. Da quanto tempo non giravi senza un surrogato? Neanche me lo ricordo più. Abbiamo cambiato il mondo e ora vuoi distruggerlo? Come posso impedirlo? Non puoi. Maggie, va offline. C'è qualcosa che non va. Ora che succederà? Dipende da te. Grazie a tutti.